Noi oggi con questo decreto avviamo il processo che riguarda uno strumento che in tutta Europa hanno, la banca pubblica degli investimenti. Io l'ho sempre detto, se dobbiamo salvare i risparmi dei cittadini e mettere soldi in una banca, la banca diventa degli italiani. E con questo processo, se servirà l'intervento, potremo nazionalizzare quella banca e fare finalmente una banca pubblica degli investimenti.